. Daniele Bossari al GF Vip, l'avvertimento di Cristiano Malgioglio . Grande fratello Vip, Daniele Bossari, la rivelazione di Cristiano Malgioglio . Giorno dopo giorno Daniele Bossari è riuscito a ottenere il favore del pubblico. . Ma anche nella casa più spiata dagli italiani sembra essere molto apprezzato. . Motivo per cui spesso e volentieri ha espresso l'intenzione di rivedere tutti gli altri inquilini anche una volta finita questa esperienza al GF Vip. Tuttavia, proprio qualche ora fa, ci ha pensato Cristiano Malgioglio a raffreddare il suo entusiasmo. . Difatti, il popolare cantautore ha asserito. . . Qui fuori quando usciamo, ognuno fa la sua strada e non ci vediamo più capito Daniele? Dopo che ho fatto l'isola dei famosi ci dicevamo fra tutti di rivederci e invece nessuno si è più visto e . . Tuttavia, Carmen, lì presente insieme a loro due, non è sembrata poi così troppo convinta dalle parole di Cristiano, replicando. . È vero, ma non del tutto è. . Insomma, pare che Malgioglio, per via delle sue passate esperienze come concorrente nei reality, sia conscio del fatto che difficilmente rivedrà gli altri compagni d'avventura. Motivo per cui ha voluto consigliare a Daniele di non farsi troppi castelli in aria. . Sarà davvero così? Oppure Daniele riuscirà a rimanere in contatto con gli altri ragazzi anche al di fuori della trasmissione? Comunque sia, Cristiano non ha fatto parlare nelle ultime ore solo per questo motivo. . Daniele Bossari al GF VIP, l'ultima dichiarazione di Cristiano Malgioglio. . Cristiano Malgioglio sembra esserci rimasto molto male dal fatto che Carmen Rosso sia stata nominata dal resto degli inquilini della casa più spiata dagli italiani. . Per questo motivo il popolare cantautore, come mostrato nell'ultimo day time andato in onda ieri su Canale 5, si è sfogato con Corinne Clary, dichiarando di non sopportare i giovani, re di aver votato la moglie di Enzo Paolo Turchi. . Ma non è finita qua perché a un certo punto ha parlato anche di Daniele Bossari, scatenando l'ennesima bufera sui social. . Cosa ha detto? Andando nel particolare, secondo l'autore delle canzoni di Mina, il presentatore di Mistero starebbe giocando molto, facendo capire che non sia vero al 100%. . Affermazioni che non sono piaciute affatto ai tantissimi fan del Grande Fratello Viet, i quali si sono riversati sui social per attaccare Malgioglio. . Insomma, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui i concorrenti del reality show condotto da Hilary Blasi non creino qualche polemica. . Ci saranno altri colpi di scena? Altre dichiarazioni shock? Chissà, ma per scoprirlo non resta che sintonizzarsi sul canale 34 del Digitale Terrestre dove viene mostrata la diretta del reality 24 ore su 24. . .